Leo ha fatto il pesto con il basilico del nonno, vero? Cosa stai facendo Leo? Cosa fai di bello? Dove l'hai preso il basilico Leo? E' l'orto! E questo è Leo che prepara il pesto. Saluta un po' qui. Hai un saluto, fai un saluto. Ciao! 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 ... Cleo voleva dire che è molto e quindi lo mangia tutto lo assaggio anch'io lo assaggio posso assaggiarlo? non volevi? che buono si arrabbia non vuole nonno chef e Leo salutano salutiamo tutti ciao e al prossimo al prossimo e buonanotte si buono bravo benissimo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti